L'isola Comacina ha una storia complessa e in parte avvolta nel mistero. Per questo motivo è protagonista di miti, leggende e di una misteriosa maledizione. Nel 1169 i guerrieri di Como, alleati con il Barbarossa, invadono l'isola radendo al suolo ogni costruzione. Nel 1175 lo stesso Barbarossa emana un decreto che vieta ogni possibile ricostruzione. Lo stesso vescovo di Como, Vidulfo, scomunica l'isola. Non suoneranno più le campane, non si metterà pietra su pietra, nessuno vi farà mai più l'oste, pena la morte violenta. Da allora nessuno più torna ad abitarla. Nel 1948, incuranti della maledizione, il setaiolo Carlo Sacchi e il campione di motonautica Sandro De Colle contattano il ristoratore Lino Nessi, detto Il Cotoletta, proponendogli di impiantare una locanda nell'isola. Improvvisamente Sandro De Colle scompare tragicamente in un incidente di motonautica e Carlo Sacchi viene ucciso a Villa d'Este dalla contessa Bellentani. Sicuro che la maledizione esista davvero, Lino Nessi vorrebbe abbandonare il progetto, ma la scrittrice inglese Frances Dale gli suggerisce l'idea di un esorcismo già praticato nell'antica Grecia, l'esorcismo del fuoco. Da allora, ogni volta che qualcuno onora la mensa della locanda dell'isola, cioè il ristorante che si trova sull'isola, si svolge il rito del fuoco che ha spezzato definitivamente la maledizione. Grazie mille.